Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video, infatti è passato un po' di tempo, ma è appena mezzo mese presumo, infatti tolomeno un po' di difficoltà a desidere cosa caricare cosa no. Dovevo caricare CryptoNews 2, ma non l'ho caricato. Dovevo caricare due extra, uno perché uno dei commenti richiederebbe una risposta abbastanza lunga, e chiunque sia lo sa bene, e l'altro diciamo, beh, non a caso ho tirato fuori dito meglio perché è una questione un po' delicatina. Bene, cosa potrebbe accadere ora? Allora, le cose sono due. Uno, metto del tutto. Due, ah, ho dimenticato, che mi cavolo mi fanno le cuffie. Senti, non proprio smettere del tutto, ridurre un po' da un video a un giorno a un video ogni due o tre giorni, infatti ne va a mettere che ogni volta che torno da Bari, sto... E quindi, cavolo, come posso mantenere un ritmo del genere? La seconda, che non mi piacerebbe granché, è ridurre il video da quei quindici minuti che carico di solito a sette e mezzo. Questo sì, mi dovrebbe permettere di caricare più video al giorno, vabbè, in settimana anche due al giorno, quello che è. Ma, presumo, nessuno lo voglia. Infatti, non badate neanche i primi ventisecondi, dite la verità. Più avanti nel video c'è una specie di parodia di tutto quello che è sbagliato, in questo caso su me e il canale. Vabbè, è più un'anteprima, infatti, ne sto organizzando uno intero riguardo Dangarompa, perché, diciamo che, con quello che sta accadendo, la Spike sta davvero toccando il fondo. Ma non in fondo, diciamo, una sorta, come, non nel livello di Final Fantasy, che quello non lo farò io, anzi, dovrò farlo io, auguri. Ma, una sorta di Call of Duty, cioè, la prima cosa che mi è venuta in mente, poi ne parleremo nel video, che sarà anche, eh... Lievemente modificato rispetto al format che, attualmente usa CinemaSims, perché aggiungerò pure elementi di dibattito. Vabbè, credo che non possa aggiungere altra roba in questo video, godetevi quei 50 secondi che ho registrato malapena in un'ora. Sì, sono fottutamente lento. Lo so, non serve che lo dite voi. Questo video è stato creato per puro cassello dei creatori. Il fatto che vi sto anticipando un video con codesto video. Che mi metto a fare questi video mentre sto facendo l'università. Il fatto che tengo un messo di registrazioni che non mi metto a montare. Il fatto che mi sono messo a giocare a videozocchi giapponesi senza conoscere le giapponese. Che dopo malapena sedicipati non ha ancora finito Pattern Empire. Ed è un fottuto gioco con RPG Maker. Che il roleplay di Rompa Mention Reboot non è il roleplay più lungo in assoluto. Infatti gli accusa roleplay a 30 sessioni da tre ore ognuno. E che cazzo! Il fatto che questo video vale come trailer. Il fatto che questo video è stato creato in meno di un'ora. Che ho preso in considerazione CinemaSims nella creazione di questo video. La vostra idea del narratore è noiosa. Questo video è il ritratore che si tratta in un video. E non è la nostra volta di creare codesti video.